Pietro, ma oggi dov'è che andiamo? Non lo diciamo, sennò fai come ieri E' che non ho visto gli sbagli Inizia ad essere un po' costantino Io? Sono molto costantino E adesso... Ma tu ieri ti stavi addormentando nella seduta sulla sedia a BAM E va bene Il deserto che porta... Beh, stiamo partendo Eh, partiamoci 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 Meno male che l'ha preso Regalo Vabbè lo diciamo Andiamo a pescare Andiamo a pescare A pescare E allora nipotini Escursione del mercoledì tra la nostra Antonella e Elia con Pietro Coppia affiatata Fanno tutto insieme Io li adoro Ci sentiamo al prossimo video su Antonella Un grande bacione Ciao Ciao